Buongiorno e benvenuti a questa è la sedia stampa di oggi 20 agosto, ovviamente il ponte è sempre la questione fondamentale della giornata, vediamo quali sono le cose fondamentali. Certamente una di queste è l'intervista al ministro dei trasporti Toninelli che oggi viene rilasciata alla Corriere della Sera. Dice varie cose, ve le sintetizzo, la nazionalizzazione delle autostrade conviene, il ragionamento di Toninelli non fa una piega, nel senso che è un ragionamento da prima elementare dal punto di vista delle tabelline, dice se prima i profitti li facevano i barretton, adesso i profitti lo fa lo Stato e con quei profitti rendiamo più belle le autostrade. E' una cosa che tutti quanti potrebbero dire, certo questa è una buona idea, perché non ci hanno pensato prima? Ovviamente non ci hanno pensato prima perché i cattivoni di prima hanno pensato di voler regalare una rendita incredibile ai loro amichetti che nel qual caso erano i Benetton. Quindi sarà una battaglia persa quella contro la nazionalizzazione e chiunque dovrà opporsi alla nazionalizzazione sarà morto, sarà travolto dall'onda dell'indignazione e adesso dopo i Benetton a chi vuoi fare i favori tu. Poi dice un'altra cosa, molto più importante secondo me di questa, dice Toninelli, devo ammettere che anche lo Stato non ha controllato l'esecuzione dei lavori e la concessione, ovviamente è la colpa dei ministri precedenti, ma questo ci sta perché Toninelli è da 70 giorni a quel ministero e non si può certo pretendere che lui controllasse quello che negli ultimi sei anni non è stato controllato. C'è dal 2012 dove, vi segnalo, c'è un ispettorato, una direzione generale al Ministero delle Infrastrutture che si occupa proprio della vigilanza sulle concessioni pubbliche. Che cosa faceva questo ispettorato? Evidentemente zero. Poi l'altra cosa che diceva ovviamente Toninelli, ma questo non toglie che le responsabilità sostanziali siano in capo ai Benetton. Poi l'altra questione che ricorda l'intervista del Corriere della Sera Toninelli, ma cosa c'entra, cos'è questo sciacallaggio che avete fatto sulla gronda? Dice è un falso problema perché la gronda si sarebbe potuta fare soltanto nel 2029. E qui invece Toninelli dice una gigantesca bugia perché è parzialmente vero tutto quello che dice lui e glielo ricorda bene secondo me Claudio Cerasa oggi sul foglio e ricorda con grande semplicità come la prima ipotesi di costruire una passante a Genova che fosse alternativo al Ponte Morandi fu del 1984. Quindi non esisteva ovviamente ancora Grillo se non faceva il coglione negli suoi spettacoli in cui diceva tutto il contrario di tutto. Ma il punto fondamentale è che dal 1984 in poi si è sedimentato, e ha ben ragione Cerasa a dirlo, quel movimento no gronda, no opere pubbliche, no altrocemento, non cementificare il territorio Ligure, per il quale dall'84 siamo arrivati al punto che finalmente al 2029 si sarebbe potuta fare la gronda. Ecco se non ci fossero stati tutti questi no la gronda sarebbe stata fatta da mo, invece in realtà oggi ci riduciamo a dover fare la gronda, anzi un nuovo ponte al posto di quello Morandi in otto mesi che è l'offerta che continua a fare i benetton. L'altra questione fondamentale, ed è posta oggi da una bella intervista a Bertolaso, mi sembra che sia anche questa sul Corriere della Sera, è che dice Bertolaso attenzione però a fare un ponte in otto mesi, perché in realtà qua non dobbiamo fare un ponte così alla Carlona, non tanto perché crolli, ma perché una volta che ci siamo facciamola bene questa cosa, prendiamoci magari qualche mese in più e facciamo il ponte, in modo tale che abbia ad esempio tre corsie. Questa è la tesi di Bertolaso, l'altra cosa che mi sembra di capire da Bertolaso è che non è del tutto contrario ad un'eventuale nazionalizzazione. Su Repubblica oggi è presente addirittura un'ipotesi, cioè quella di fare una legge che cancelli la legge che ha previsto la convenzione, e quindi di fatto con questo escamotaggio giuridico si potrebbero evitare alcune di quelle lunghezze burocratiche che deriverebbero per la caducazione, come oggi si parla, dell'accordo con i Benetton. Sulla stampa l'idea è completamente contraria, la stampa è pur sempre del gruppo ormai diventato del gruppo Repubblica, dice che non c'è nessuna rottura con le autostrade, cioè una componente del governo, quella leghista, quella di Rixi, non vuole che ci sia una rottura con le autostrade. Il motivo è molto semplice perché nessuno oggi è in grado di rifare quel ponte in otto mesi o in un anno e nessuno oggi ha i soldi per poter fare quelle manutenzioni veloci che si richiedono. Su questa vicenda vi sottolineo un ragionamento fatto da Francesco Forte oggi sulla prima pagina del giornale che secondo me è ineccepibile, e cioè dice state attenti perché è in connessione a quello che ha scritto il Wall Street Journal ieri, di cui parleremo tra poco, perché in Italia servono moltissimi investimenti e il pubblico da solo non li può fare. Io oggi andrei avanti su questo tema di Forte e chiederei a tanti che dicono togliamo alle autostrade le concessioni, posto che non gli dobbiamo restituire 20 miliardi, oggi i calcoli li faceva qualche giornale, il motivo per il quale mi sembra la stampa, i soldi che si dovrebbero restituire come mancati guadagni se dovesse essere accettata la convenzione, si potrebbe anche cancellare perché si pensa che il dolo, la colpa delle autostrade siano tali per cui non si deve attualizzare i ricavi futuri presunti della società autostrade. Ma posto che non si indennizzino le autostrade perché si dice che hanno ucciso 43 persone, secondo questo sillogismo che deve essere tutto dimostrato, il fatto di avere subito dei soldi per fare gli investimenti non è così semplice, così banale, ovviamente, tant'è che nel passato si è sempre pensato di togliere dall'ambito dello Stato alcune società per poter permettere loro di avere mano un po' più libera per fare gli investimenti. Allora io mi chiedo, e le ho elencate, sono le prime che mi sono venute in mente, noi vogliamo fare la ristrutturazione dei ponti in Italia perché ci siamo accorti finalmente che i ponti in Italia fatti negli anni 60 sono a rischio crollo, in realtà già ne sono venuti 5, 6, 7 di crolli meno tragici di questo, ma solo oggi ce ne accorgiamo. Allora io vi chiedo, la famosa rete idrica italiana che questi cazzoni vogliono rendere pubblica, perché anche quella vogliono rendere pubblica, l'acqua pubblica, i 3 miliardi necessari, dove li prendiamo? E poi il famoso dissestro idrogeologico, quello per cui ci avete fatto due palle così, e mi ricordo una valanga in Campania che ha ucciso decine di persone, i soldi per fare quello a chi li diamo? Sempre lo Stato, certo. E poi per rimettere in sesto le scuole che crollano, quei tetti crollano, ogni giorno abbiamo il racconto di una scuola che crolla, a settembre crolleranno, quelli dove lo mettiamo? E rammendare, come dice quel geno di piano, le nostre periferie, che fanno schifo, con quali soldi li facciamo? Due miliardi sono stati già tolti da questo governo. E poi le case, le scuole, appunto. E poi i tribunali, vi rendete conto che a Bari un tribunale non è più nella sua sede naturale, ma viene fatto in un campeggio. Adesso hanno trovato un'alternativa. E rimettere in sicurezza le zone terremotate? Ecco, tutto questo lo farà il pubblico. Tutto questo con quali soldi? Con i nostri, ovviamente, che non ha, o con un allargamento delle borse europee, che non vuol dire altro tasse future nei nostri confronti. Allora, io mi chiedo e vi chiedo, non è più ragionevole dire a uno che è stato beccato con 43 morti, dirgli adesso tu ti obblighi a fare un piano di manutenzione straordinario che ti controllo facendoti un mazzo così, se no ti mando in galera. Non è tutto quanto proprio, diciamo, meno ideologico e più concreto. Io la trovo una cosa banale da fare oggi. Invece no, bisogna fare, no, non accettiamo, togliamo la convenzione, andiamo in causa con loro, rischiamo di pagare addirittura i Benetton. Rendetevi conto che follia nella follia. Il Wall Street Journal si interrogava ieri e Salvini gli ha risposto sul fatto che la Grecia, dove sono io, esce dall'austerity dopo otto anni, ma rischia l'euro di essere indebolito dall'Italia. Massimo Gaggi, per una volta, secondo me, interessante su Corriere della Sera, dice che il Wall Street Journal è quel giornale che non ha affatto l'euro, ha sempre detto che l'euro è una minchiata. Ma comunque il rischio italiano all'interno dell'Unione Europea esiste, secondo Wall Street Journal, e Salvini va sopra a questa informazione, a questo fondo del Wall Street Journal, dicendo che cercano di smontare l'esperimento italiano. Ma come deve essere dimostrato? 43 vittime non bastano? E anche di questo... Vabbè, insomma, qua qualcuno dice che non basta, non si deve fare un processo. Quando ci sono 43 vittime non c'è bisogno di processo. Ultima cosa che vi segnalo è che domani c'è... No, domani, insomma, l'annuncia oggi Cariotti sulla Corriere della Sera, che è uno di quei grandi temi che mi affascinano quando il mondo era affascinato dai comunisti. Un po' anche Cariotti oggi nell'inizio del pezzo sulla Cecoslovacchia, perché nel 68 ci fu la primavera di Praga, ci fu Dubcek, fu repressa nel sangue, cose che più o meno sappiamo, domani nei giornali ne parleranno. L'idea di come un'idologia in un certo momento coinvolgesse tutti quanti, io lo trovo fantastico. Alcuni strascichi, li trovo anche dopo 50 anni, se mi leggo nelle prime righe del pezzo di Corriere della Sera, c'erano tutte le premesse per una via nazionale, cioè cieca, allo socialismo diverso da quella bolshevica. Questa è una delle premesse che fa Cariotti nel prezzo, in cui poi racconta che questa premessa di una via diversa del socialismo reale rispetto a quella bolshevico non si è realizzata a Praga. Balle, perché il socialismo e il comunismo, quello inevitabilmente comportano, dalla Jugoslavia a Di Tito, alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria, alla Romania, all'Unione Sovietica, quel robo lì l'avevano capito perfettamente pensatori liberali negli anni 50 e 70, quando la gente come Cariotti pensava che andasse di moda, non come Cariotti, ma come tanti del Corriere della Sera pensavano che andasse di moda il socialismo reale, ma diciamo dal volto umano, non necessariamente sovietico. In realtà il socialismo era quella roba là e così si è dimostrato. Detto questo, oggi ci ritorniamo non tanto nella forma, ma nella sostanza, se pensiamo che tutto lo Stato, tutto quello che può fare lo Stato, lo può fare meglio rispetto ai privati che pur hanno dimostrato di gestire molto male, come nel caso dei Benetton. Per oggi è tutto, se vi piace condividete, più tardi, anzi l'ultima notizia, no scusatemi questa ve la devo dare perché è straordinaria, secondo i siti questa mattina cosa è successo? È successo che sono state scovate alcune email criptate tra gli avvocati di Asia Argento e di un attore oggi 22enne che all'epoca dei fatti ne aveva 17, quindi 5 anni fa. Beh, in sostanza Asia Argento avrebbe patteggiato con un risarcimento di 380 mila dollari perché avrebbe, anzi ha violentato il ragazzino minorenne 17enne, ragazzino si fa per dire, quindi il 17enne ha fatto causa da Asia Argento per violenza sessuale, Asia Argento ha violentato questo bambino che viene considerato tale a 17 anni negli Stati Uniti e questo bambino ha preso 380 mila, questo ragazzo ha ottenuto 380 mila dollari di risarcimento. Quindi la paladina del Me Too è stata condannata per violenza sessuale, a meno che qualche coglione non consideri il fatto che una donna che violenti un uomo sia diverso dal fatto che un uomo violenti una donna o comunque provi a violentare una donna o comunque che molesti una donna, ci può anche stare, ma allora definiamolo sessismo allo stato puro, quindi se non ci sono differenze, anche mi sembra la violenza ammessa da un tribunale attraverso un patteggiamento di Asia Argento nei confronti di un attore di 17 anni che peraltro nel film faceva suo figlio, bene, questa Asia Argento deve scomparire, stare zitta per la vita, e ancora più ridicole sono le persone che si sono affidate a lei per considerarla paladina di un movimento di liberazione delle donne dal maschio oppressivo, che magari lo è, Weinstein non mi piace, mi fa schifo proprio come oggetto, ma detto questo, pensare che la paladina contro Weinstein sia Asia Argento, senza ancora che io sapessi della questione per cui lei è stata condannata a 380 mila per violenza sessuale, beh mi sembra veramente la gigantesca ipocrisia di una attrice un po' squinternata che secondo me può fare paladina soltanto di se stessa in qualche diciamo centro spirituale indiano a Goa, ecco lì la vedrei molto bene, ma pensare che lei sia la paladina appunto delle donne che soffrono di molestie e violenze sessuali vere, a me mi fa ridere se non piangere, lo troveremo su giornali oggi su tutti i siti, ciao!